Nel mondo dei VIP lo sappiamo signori, queste cose sono quasi normali e comunque la polemica ci sta. Rita Rusick si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola questa settimana e parlato anche del fidanzato. La produttrice cinematografica nonché volto della TV e soprattutto dei reality show a 64 anni anche se non si direbbe. Il suo compagno ne ha 30 di meno. Non è la prima volta che ha relazioni con partner più giovani e spesso nella sua vita ha fatto discutere per le sue scelte in amore. Questo pagare sulla mia pelle certe scelte, ebbene, penso che nel profondo abbia suscitato una certa ammirazione, o quantomeno un po' d'invidia, ha detto nel nuovo numero del magazine Chi una relazione così non è semplice, intendo asimmetrica. Sono stata da entrambe le parti, quando mi sono sposata con Vittorio, il cecchi gori, avevo 20 anni e lui 38. Sentivo che non aveva voglia di fare certe cose e io idem. Se una donna, oggi, ha una relazione con un uomo più giovane o ha la forza di viverla alla pari, oppure, se tutto è un'angoscia, un'insicurezza, se tutto è sospetto allora non vivi il bello della relazione, ha aggiunto Rita Rusick. La bellezza, l'aspetto fisico per lei contano perché, se sei bella, e lo sai, ti senti più forte. Però a 20 anni è facile. Dopo, fai più fatica. Di certo al suo compagno, Cristiano Di Luzio, la bellezza non manca. A 33 anni, è nato nel 1990 a Danzio, in provincia di Roma, e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come modello. Oggi si dedica soprattutto alle sue attività da imprenditore e allo sport. Ma il fidanzato di Rita Rusick si è fatto conoscere in tv. A Ciao Darwin, sfilando in biancheria intima nella puntata Umani contro mutanti, e a Pechino Express proprio in coppia con la produttrice. Con lui l'amore va bene, perché siamo sempre lì sul bordo, sul ciglio, stiamo bene insieme perché stiamo bene anche da soli. Perché se io stessi male da sola e stessi bene solo con lui, ma lui? Vedo certe catastrofi in giro. Ha concluso la 64enne.